Anche quest'anno Brescia si apre ai presepi, il tema, il cammino, quanto è importante soprattutto in questo periodo? Mettiamoci in cammino assieme ai Re Magi, assieme a Giuseppe Maria, assieme ai Pastori. Ognuno si mette in cammino con la sua famiglia, col suo gruppo, con la sua comunità per costruire una città che sia condivisa. Il tema è scelto in concerto con la Diocese che l'anno prossimo celebrerà il sinodo diocesano, comunità in cammino. Presepi che possono arrivare da tutte le parti e possono essere fatti da piccoli e da grandi.